Musica Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Via libera dal Consiglio regionale alla terza variazione di bilancio. Approvato a maggioranza il bilancio di ARPAT, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. Dopo un intenso dibattito in aula, la terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana. L'atto, presentato insieme alle modifiche alla nota di aggiornamento al DEFRA 2023, è stato integrato da un maxiemendamento del Presidente della Giunta, Eugenio Gianni, ed è passato con il voto favorevole di PD e Italia Viva e il voto contrario delle opposizioni. Siamo in variazione di bilancio, l'ultima variazione di bilancio prima della fine dell'anno. Quindi a fronte di vari consiglieri di maggioranza, di opposizione, che mi chiedevano di intervenire convertendo risorse che avevano la loro destinazione già prevista da tempo, abbiamo fatto questo sforzo e abbiamo individuato 25 milioni che derivano alcuni dalla rimodulazione di fondi del FES, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Si tratta in questo caso di 6 milioni per le imprese, ovvero a fondo perduto, 6 milioni a carico di interessi o oneri su prestiti o mutui. Poi abbiamo una previsione concreta sotto questo aspetto di 7 milioni e 56 che sono specifici per i fondi relativi all'agricoltura, uno per rimediare a quelli che sono dissesti, l'altro che nascono dal Fondo di Solidarietà, che quindi abbiamo spostato in questo pacchetto di misure. Vi è poi 6 milioni che non sono immediatamente nel bilancio ma che attraverso questi emendamenti al DEFRE noi richiamiamo perché possano essere messi in quello che è un bilancio già in indignere, quello di previsione 2024 che abbiamo portato l'indigno in giunta e sono 6 milioni a fondo perduto per i cittadini. Naturalmente sono risorse che noi possiamo spendere dopo aver approvato una legge regionale per cui lavoreremo in questo mese. Per noi questa variazione di bilancio è importante anche per dare un primo segnale forte, importante a chi sta soffrendo, alle imprese alluvionate, alle famiglie che hanno perso la propria casa. In questa variazione di bilancio noi decidiamo di destinare 6 milioni di euro a fondo perduto alle famiglie, 6 alle imprese, 7 milioni alle imprese agricole e facciamo accesso, io l'ho chiesto da subito, subito nei primi giorni dell'alluvione, al fondo di solidarietà europeo per 50 milioni di euro. La stessa richiesta, la stessa osservazione porterò al Comitato delle Regioni della prossima settimana a Bruxelles. Noi abbiamo bisogno dell'Europa, è importante che l'Europa torni ad essere vicina ai cittadini e può farlo anche dando risposte e segnali concreti in poche settimane, in 12 settimane. D'altro canto però facciamo un appello anche al Governo che stanzi subito tutte le risorse che servono. Guardate, i primi dati ci dicono che siamo nell'ordine dei 3-4 miliardi di euro di danni. Noi mettiamo subito le cifre che ho detto, ma non bastano, sono davvero solo risorse per l'emergenza. Come Consiglio regionale metteremo diverse risorse che restano dall'avanzo di amministrazione per sostenere i comuni colpiti, però dobbiamo fare di più. Ad illustrare gli atti in aula e i vari ambiti di intervento, il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Una variazione è quella che viene licenziata dal Consiglio regionale che tocca alcuni aspetti fondamentali nel Governo dei territori della Regione Toscana. Da una parte, come spesso accade con le variazioni di bilancio, soprattutto con la terza variazione di bilancio, si interviene nel settore della cultura, con uno stanziamento importante che traguarda gli 8 milioni di euro per il settore dello spettacolo. Ma non mancano anche importanti risorse che sono destinati ad eventi culturali del nostro territorio regionale, come il Carnevale di Viareggio o il Festival Pucciniano. Si conferma anche il contributo di 1 milione e 100 mila euro per il Teatro del Maggio Fiorentino. Ci sono poi risorse significative che sono destinate alla scuola. In particolar modo, 500 mila euro vanno ad integrare le risorse per il diritto allo studio e sono 600 mila euro i contributi che vengono destinati alle scuole materne non statali. Ci sono poi tutta una serie di misure particolari che riguardano i singoli territori della Toscana che vanno a sostegno di comuni ed altri enti locali per interventi che vanno dalla messa in sicurezza del territorio all'edilizia scolastica fino ad arrivare ad alcuni interventi puntuali inerenti all'edilizia sanitaria. A tutto ciò si deve aggiungere anche uno stanziamento di 10 milioni di euro che va ad alleggerire il fondo sanitario secondo le indicazioni della Corte dei Conti. Una variazione di bilancio che Tel Aviva ha sostenuto con convinzione, un equilibrio dei conti che è fondamentale, mette in sicurezza i conti del 2023, soprattutto mette in sicurezza i conti della sanità nella quale bisogna anche migliorare rispetto ai livelli di erogazione dei servizi, mette in sicurezza alcune risorse importanti per quanto riguarda le amministrazioni locali e soprattutto inizia ad investire delle risorse importanti per quei territori che sono stati alluvionati. Quindi una variazione di bilancio importante, un equilibrio dei conti che dimostra ancora una volta che la battaglia d'Italia Viva di tenere i conti in equilibrio della regione toscana si può fare senza aumentare le tasse. Il 2023 quindi si conclude con un anno che per la terza volta consecutiva porta i conti in equilibrio di bilancio soprattutto senza chiedere nessun sacrificio a cittadini toscani. Respinte le proposte di risoluzione presentate dal gruppo della Lega collegate al DEFR, ordini del giorno ed emendamenti di Lega e Fratelli d'Italia alla terza variazione di bilancio. Siamo abituati come consiglieri regionali purtroppo in questa legislatura a essere spesso presi in giro dal presidente Gianni ma non accettiamo che in questo caso a essere presi in giro siano i cittadini toscani, le imprese toscane, i comuni alluvionati. Anche quest'oggi è venuto in consiglio regionale, come centrodestra avevamo presentato una serie di emendamenti alla terza variazione di bilancio di un importo circa di 10 milioni e è venuto in consiglio regionale a dirci voi ci chiedete 10 milioni, ecco noi ne mettiamo sul piatto 25 milioni. Eravamo pronti e ci siamo riuniti, abbiamo chiesto anche una sospensione nel ritirare i nostri emendamenti essendo felici, perché noi eravamo felici del fatto che il governatore e la regione toscana avesse trovato 25 milioni di euro a disposizione per famiglie, imprese e comuni alluvionati ci siamo riuniti, ci siamo messi a leggere gli emendamenti, abbiamo avuto anche un confronto tecnico e abbiamo scoperto che questi 25 milioni non ci sono, sono un atto collegato al documento economico finanziario regionale e quindi buoni intenti, un atto politico che avremmo potuto fare anche noi come opposizione che avrebbe potuto presentare anche il Partito Democratico, ma siamo veramente arrabbiati, indignati che si continui a speculare sulla pelle dei cittadini, delle imprese e delle famiglie alluvionate. Noi oggi siamo andati in aula con la responsabilità e il pragmatismo che contraddistingue il centrodestra abbiamo seguito, abbiamo ascoltato le motivazioni per cui il Presidente Gianni ha detto di non aver destinato risorse concrete, aveva detto di non aver destinato risorse concrete in questa variazione di bilancio agli alluvionati, ce l'aveva spiegato in commissione, ha dato la sua lettura ed è una lettura che non ci ha convinto. Non ci ha convinto perché spulciando e studiando il bilancio ci siamo accorti che vi erano le risorse per poter fare un fondo e di integrare i 5 milioni messi dal Governo nazionale. Quindi c'era la possibilità di integrare i 5 milioni messi dal Governo nazionale. Siamo consapevoli che sarebbe stato stupido dire prendete tutti e 30 milioni del bilancio e mettiamo gli alluvionati, l'avremmo potuto fare e fare della demagogia, ma in maniera serie abbiamo studiato la modalità di fargli creare un fondo parallelo a quello nazionale. Abbiamo addirittura presentato emendamenti variabili perché questo fondo può essere fatto da un minimo di un milione di euro a un massimo di 10, quindi da un quinto del fondo nazionale che già esiste al doppio del fondo nazionale che già esiste. Va studiato in base alle possibilità di spesa perché capiamo bene che è un fondo che dovrebbe essere speso da oggi al 31 dicembre, quindi può darsi anche che 10 milioni rischierebbero di non essere spesi tutti e 10, quindi magari doveva essere semplicemente un'integrazione. A cosa servivano questi soldi? Servivano a ristorare quelle famiglie che hanno perso tutto e che ad oggi non possono essere ristorate, perché i 5 milioni stanziati, ricordiamolo e sottolineiamolo, dal governo nazionale alla regione toscana fino ad oggi servono come primo ristoro per chi ha l'abitazione inagibile. Quindi se tu hai perso l'automobile, la moto, il garage, la taverna, la pertinenza di casa non sei ristorato. Cos'è successo? Chi è che ha portato i soldi? Il governo. È arrivato il presidente italiano ha portato 100 milioni per le imprese a fondo perduto e 200 milioni a tassa agevolato. È arrivato il governo con 5 milioni di euro subito sul tavolo. Fra l'altro ci viene detto che il governo non dà risorse. Il governo non dà risorse perché sta aspettando che, così come è previsto dalla legge, che il governatore della regione mandi il resoconto di quanti sono i danni. Se no il governo non può stanziare le risorse. Questo lo devono sapere i cittadini. E che cosa fa il Partito Democratico? Certo, nell'assestamento di bilancio del Consiglio regionale da 700 mila euro per le ricorrenze degli 80 anni della liberazione. Nella variazione di bilancio mette i soldi sulla cultura, sui tagli dei nastri, perché magari a qualcuno mi fa piacere pure andare a tagliare quei nastri. E sugli alluvionati non c'è niente. Non c'è niente per ricomprare l'avatrice, non c'è niente per ricomprare le macchine. Non c'è, per esempio, l'abbiamo chiesto anche la voce, lo stop del bollo dell'auto e lo stop del bollo dei motorini. Si continua a pagare ancora cose di cui non possiamo usufruire. I cittadini, gli alluvionati continuano ancora a pagare cose di cui non possono usufruire. E allora, onestamente, ci siamo anche un po' stancati di essere presi in giro. Al di là delle battute sul premio Pinocchio, l'unica cosa che oggi dovrebbero fare per essere credibili è quello di mandarci alle urne, di mettersi, fare un bell'atto, farci votare insieme alle amministrative del 2024. Noi, come sempre, siamo pronti e saremo pronti alla sfida elettorale. Via Libera del Consiglio regionale della Toscana, il bilancio di esercizio 2022, il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2023 e il bilancio pluriennale 2023-2025 di ARPAT, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. È stata la presidente della Commissione Ambiente, Lucia De Robertis, ad illustrare gli atti all'aula passati a maggioranza. Favorevoli, Partito Democratico e Italia Viva. Contrari, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. 53 milioni e 783 mila 64 euro è il valore della produzione presentato dal bilancio di esercizio per l'anno 2022 di ARPAT. Si tratta dell'1,72% in più rispetto al 2021. Questo il commento di Lega e Fratelli d'Italia. Abbiamo rilevato in modo molto chiaro come i deficit di personale siano assolutamente ancora gravi, come ci sia anche un problema di invecchiamento del personale e quindi come alla luce di quello che almeno è stato fino ad oggi il lavoro di ARPAT, se si prende in considerazione uno specchietto che riguarda almeno gli ultimi 5-6 anni, sostanzialmente sono diminuite le ispezioni a tutti i livelli e parlo in particolar modo anche per l'acqua, parlo in particolar modo per l'aria, per tutte le vicende che riguardano temi particolarmente importanti sotto questo profilo. Al contrario sono aumentate tutte quelle attività che non necessitano per esempio di ispezione con sopralluogo, tutto questo ha dimostrazione del fatto che ARPAT è in difficoltà dal punto di vista del personale e dal punto di vista anche del personale giovane che in alcuni casi è necessario per affrontare attività particolarmente gravosa e anche quella che è la previsione di assunzione di ben 14 unità ulteriori lascia ovviamente molti dubbi perché il bilancio preventivo è fondato su dati ancora non del tutto definitivi e non certi, le stesse assunzioni dipendono da una serie di atti autorizzatori della regione che sono in essere e che ancora vanno visti, tanto è vero che anche la stessa Presidente della Commissione Quarta ha richiamato la Giunta a una sollecitazione da questo punto di vista e quindi ovviamente il gruppo della Lega non ha potuto che votare contrario a entrambi gli atti. I cittadini possono capire, fare un bilancio di previsione per il 2023 evidentemente è una presa in giro, vuol dire che qualcosa non funziona negli uffici e soprattutto non si riesce a mettere il Consiglio regionale in condizioni di compiere il proprio lavoro cioè di controllo preventivo e anche in realtà di rilascio di un parere in qualche modo consapevole sulle cose da fare visto e considerato che arriviamo ormai strutturalmente sempre in ritardo ogni anno. A prescindere da questo ci sono due problemi per quanto riguarda ARPAT in modo particolare e cioè il primo, il personale, nel triennio è previsto l'assunzione di 44 figure che faranno sforare tutti i limiti di spesa per il personale previsti sia dalle leggi nazionali che dalle leggi regionali. Cioè è possibile l'aderoga ma naturalmente è un'aderoga di cui si assume la responsabilità la Giunta. Mentre per quanto riguarda i controlli sul territorio che sono sempre maggiori in termini teorici vanno assolutamente fatti perché tante autorizzazioni ambientali avvengono con prescrizioni che vanno monitorate nell'interesse dei cittadini e dell'ambiente e sotto questo profilo come Fratelli Italia saremo attenti a stimolare l'azienda, l'agenzia a fare il suo dovere. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione, cronache e commenti torna la prossima settimana.